Fantastici, allora presentiamo i nostri ospiti con le consuete schede Allora vediamo la prima scheda del nostro ospite principale che è Alberto, cognome Filippini, squadra Padova Vediamo un po' Palmares, ha vinto un keyway con i punti dell'ASO Bravo, complimenti Ultimo film porno girato Quanto è bello Filippini, lo sa Alfonso signorino Molto bene, bravissimo Vediamo il prossimo ospite, chi può essere? Ecco, vediamo, ce lo introduce la scheda Ah, è un grande questo, nome è William Gidai, squadra sempre Padova Di lui Mourinho ha detto Non conosco Gidai Ultimo film porno girato Se nel buonetto c'è Gidai, non girati o sono uguale Complimenti Molto bene Il nostro opinionista principe Chi può essere il nostro Paolino Tramezzani Ma conosciamolo meglio Nome Paolo, cognome Tramezzani Professione sosia dell'incredibile Wook Bene Vediamo, ultimo film porno girato È con Paolino in Camporella Non mandarci tua sorella Molto bene Grazie a tutti